I ragazzi della palla canesto crema stanno cominciando a riprendere confidenza con palloni ma fino a una ventina di minuti fa naturalmente i prof cadeli attorchiati a bovere. Allora che tipo di lavoro si fa in questa settimana che è la prima di preparazione con una temperatura non indifferente? E chiaramente essendo un gruppo nuovo sia io che l'allenatore dobbiamo imparare a conoscerli quindi la prima parte è solo una parte di avviamento motorio che comprende quasi tutti i movimenti fondamentali e cominciamo a incamminarci verso il cammino vero della preparazione che sarà quello del condizionamento organico che sarà progressivo e ai passi con i tempi del lavoro del coach. Un lavoro quindi più di potenza e di immagazzinamento di fiato che altro? La velocità arriverà fra qualche settimana? Certo sicuramente anche perché la prima parte come vi dicevo è una parte di potenziamento organico quindi più che altro resistivo e poi mano a mano si passerà alla resistenza veloce per arrivare poi alla velocità vero e troppo. Inutile chiedermi se i ragazzi saranno in forma per il 7 di ottobre? Io me lo spero, io il mio lavoro lo porto avanti ma sapete che è poi l'atleta che deve adeguarsi al lavoro io sostengo sempre che se in allenamento non do tutto in partita non posso dare tutto quindi so già che ho a che fare con dei ragazzi intelligenti quindi penso che il lavoro proseguirà nel modo migliore.